Buone pratiche proposte per la decarbonizzazione del trasporto marittimo e lo sviluppo sostenibile. Legambienti Abruzzo ed NLX hanno presentato al Porto Turistico Marina di Pescara uno studio sui porti verdi, come riferisce il Presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco e il Direttore del Porto Turistico Marina di Pescara Bruno Santori. Sì, è un primo rapporto che vuole entrare nel merito della gestione verde dei nostri porti. Ovviamente è un'analisi che facciamo sui principali porti italiani e che ragiona sia sulla qualità del trasporto marittimo che sulla sostenibilità dei porti e individuiamo delle soluzioni che a nostro avviso ci aiutano a andare verso la strada della decarbonizzazione, quindi dall'abbattimento del CO2 e al tempo stesso di rendere queste aree più vivibili e meno inquinanti e impattanti ovviamente per le città che li ospitano. In questo momento siamo quasi del tutto autosufficienti con la produzione di acqua. Anziché attingere dalla rete idrica pubblica abbiamo installato un impianto di desalinizzazione e potabilizzazione che ci consente di fare da soli per il 70% quasi del nostro fabbisogno idrico. L'altro intervento riguarda l'efficientamento energetico, in particolare la sostituzione che andremo a fare entro l'anno delle colonnine di erogazione dei servizi in banchina, energie elettriche ed acqua e in uno step successivo, ma già autorizzato dal punto di vista burocratico, un impianto fotovoltaico per renderci anche in questo modo, con il passare del tempo, sempre più autonomi per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non dipendenti quindi dalle fonti di produzione fossili.